E' stata la provincia di Chieti a realizzare la pubblicazione del Vademecum per la disabilità curato dal settore sociale dell'ente in collaborazione con i giovani del Servizio Civile Nazionale. Nanto nell'ambito del progetto Migliorabile la qualità dei servizi ai disabili, il Vademecum presentato stamani presso la sala consigliare vuole essere un utile strumento per divulgare ed accrescere la conoscenza dei diritti dei disabili al fine di agevolare la fruizione dei servizi e l'accesso alle informazioni da parte degli utenti nel loro agire quotidiano. Noi abbiamo inteso invitare tutti gli enti d'ambito, la ASL e tutti i punti di raccolta dove il disabile può trovare facilmente l'opuscoletto, la guida, nella quale poi troverà chiaramente tutti i servizi di cui necessita. La diffusione sarà, speriamo, una buona diffusione. Abbiamo prodotto circa mille opuscoli, questo è un opuscolo che prevede due parti, una parte nella quale c'è l'erogazione di tutti i servizi e nella seconda parte le modalità con le quali il disabile può accedere a questi servizi, quindi che so se parliamo di pensione, se parliamo di assistenza extrascolastica, insomma tutti i servizi che possono essere utili allo svolgimento sereno di una vita quotidiana vissuta da normale cittadino, quindi non da disabile perché riteniamo che il disabile sia un cittadino che debba essere considerato alla strego degli altri, non un malato ma un cittadino che può trovare delle difficoltà se non abbattiamo tutte quelle barriere e quei pregiudizi che oggi esistono.